Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 rallentamenti per perdita di carico tra BV1 Variante e Sasso Marconi in direzione nord. In A11 per viabilità esterna che non riceve due chilometri di coda tra BV11 Firenze Nord e Firenze Peretola in direzione del capoluogo. Regolare al momento il traffico in Fipirì dove sono possibili disagi in uscita da Firenze. Un sguardo al traffico urbano di Firenze segnaliamo restringimento di carreggiata per veicoli in panne e rallentamenti sul viadotto del ponte all'Indiano. Ulteriori dettagli nelle prossime edizioni. Muoversi in Toscana Infio, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.